È una condivisione su quello che è l'aumento della criminalità giovanile o minorile oggi. È anche una percezione forse diversa dal passato, magari in passato si ripetevano con la stessa forza e con la stessa frequenza una tipologia di reati. Sta di fatto che oggi forse li percepiamo in maniera più importante per quello che riguarda anche il nostro senso di insicurezza o il nostro quotidiano. Mi riferisco a reati commessi da minori, rapine, scippi, furti nei centri commerciali, lesioni, percosse, danneggiamenti, violenze anche sessuali, l'omicidio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la ricettazione. E mi riferisco anche al cosiddetto fenomeno delle baby gang, dai 14 ai 17 anni, con una soglia di non punibilità, sino a 14 anni, nessun processo, nessuna pena, a una ripetitività di determinati comportamenti lesivi. Mi riferisco anche a una valutazione da parte di esperti delle cause di questo fenomeno dilagante. Si parla di disagio sociale, si parla di disagio psichico, si parla di comportamenti emulativi, si parla di uso distorto dei social. Vi è poi anche un decreto caivano, il decreto legge 159 del 2023, Napoli, i fatti del settembre del 2023, che ha introdotto nuove sanzioni, c'è un daspo urbano, c'è un arresto in flagranza per determinati reati, c'è una maggiore possibilità, maggiori poteri per il questore, ma vi è anche un percorso di rieducazione civica. Vediamo tutto questo come si concilia oggi e per il futuro.